Allora, era giusto? Non so, vediamo. Aha, aha. Bene, finora è tutto giusto. Torno subito. Ok, ti aspetto qui. Babe, voglio che tu sappia che ho deciso di perdonarti, anzi credo proprio... Il tuo asciugomano? Che cosa? La tua asta online. Ti sei aggiudicata all'asciugamano di Channing Tatum? No. All'ultimo minuto qualcuno ha superato la mia offerta. Ma... Quello che cos'è? Oh, parli del mio splendido asciugamano di Channing Tatum. Sei stata tu! Tu hai superato la mia offerta! E così adesso anch'io ho qualcosa che tu vuoi. Dammi quell'asciugamano! Non ci penso proprio! Lo meritavo io! L'ho visto io per prima! L'asciugamano è l'animale, ok? Quindi quella volta impari a lasciare i Channing a casa di Bezos! Ehi, 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 ehi! Fermi tutto! Lei chi è? Channing, chi è quella? Bene. Ho ricevuto il messaggio e sono venuta qui. Ricordi che cosa hai detto quando è finita? Beh, ne abbiamo dette molte di cose. Certo che è un vero schianto. Zitta! Mi snobavi perché non sapevo programmare. Già. Mi ricordo molto bene. Beh... Ho fatto questo. Ha imparato un sacco di cose. Chi se ne frega. Mason! Non mi hai mai detto una cosa del genere. Infatti, non te l'ho mai detto. Andiamo in un posto più appartato? Sì, ma non troppo. Oh, tesoro! Tutto ok? Vedrai che la mollerà presto. Perdonami per quello che ho fatto. Tieni. L'asciugamano di Channing Tatum è tuo. Su, serio? Non ci credo. Oh, mamma. Oh, se penso che questa è la sua colonia. Hai! Ancilla! Grazie a tutti.